I carabinieri della stazione di Granieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone un catanese di 51 anni per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale per contrastare il fenomeno dei furti d'uva nei comuni di Licodia, Eubea e Mazzarone e nella frazione di Granieri di Caltagirone, la scorsa notte i militari delle locali stazioni hanno intercettato due veicoli che correvano ad alta velocità nelle campagne di Granieri provenendo da Catania. Uno dei mezzi, privo di targa, è riuscito a fuggire mentre l'altro è stato fermato e sottoposto a controllo da parte dei carabinieri. L'autovettura aveva i sedili posteriori abbassati e vi erano degli acini d'uva a terra. La perquisizione ha permesso di rinvenire del materiale notoriamente utilizzato per commettere i furti d'uva recidendo i grappoli dai vigneti, ovvero forbici da potatura, guanti da lavoro e sei torce frontali, a riprova del fatto che il veicolo intercettato faceva parte di una più ampia batteria. Il soggetto alla guida del veicolo, che non ha fornito giustificazioni per la sua presenza di notte nelle campagne di Granieri, è già noto per pregresse vicende giudiziarie legate alla commissione di reati contro il patrimonio.